Si sono trasformati in cuochi, baristi e camerieri per una serata. Sono i ragazzi speciali dell'Associazione Il Girasole di Foggia, i protagonisti della serata Aperi Time andata in scena in un bar della città nei giorni scorsi. Ragazzi speciali al servizio del proprio talento e della voglia di stare insieme sono i ragazzi dell'Associazione Il Girasole, da oltre 15 anni impegnata sul territorio foggiano, con tante attività per bambini e ragazzi con autismo e difficoltà cognitive. Grazie ad un'equip di esperti e terapisti ABBA sono stati proprio loro i protagonisti dello special Aperi Time e Aperi Spritz al bar di fronte il parco giochi di San Pio X nella città di Foggia. Con le loro mani e soprattutto con la loro voglia di fare hanno realizzato e organizzato una serata all'insegna dell'inclusione e del buon cibo. Proprio loro sono stati gli organizzatori della manifestazione speciale aiutati dai proprietari del bar, insieme ai terapisti, alla presidente dell'Associazione Cristina Bubici, a tutta l'equip del Girasole hanno realizzato un aperitivo molto speciale. L'evento rientra tra le attività del progetto Ragazzi Autentici finanziato dalla Regione Puglia con il Bando Puglia Capitale Sociale 3.0 e attuato dall'Associazione Il Girasole di Foggia che punta a focalizzare l'attenzione sull'inclusione sociale di ragazzi con disturbo dello spettro autistico e disabilità cognitiva e prevenire e contrastare ogni forma di violenza, discriminazione e intolleranza verso gli stessi ragazzi o soggetti vulnerabili.